Gentile collega, ti invito adesso ad osservare questo caso di oloprosencefalia a lobbare. Prima è bene che tu ti legga l'editoriale sull'oloprosencefalia nel cui vengono specificati tre tipi, lobbare, semilobbare e alobbare, e questo che è alobbare che è il più grave, tu che cosa puoi osservare? Puoi osservare la forma sferica della testa, la mancanza di un contorno di tessuto cerebrale lungo i lati del tavolato osseo a caratterizzare quindi di quello che viene chiamato come tipo pancake, gli altri due tipi invece nel quale esiste una certa tessuto cerebrale ai lati, il tipo coppa o il tipo ring in cui tutto viene circondato, ma poco cambia. Perché? Perché l'elemento caratteristico è il monoventricolo, l'elemento caratteristico dell'alobbare è l'assenza della falce, l'elemento caratteristico dell'alobbare sono i talami fusi, cose che tu hai potuto osservare in queste prime immagini. Questa patologia che frequentemente si associa ad alterazioni, ad eneoploidie, soprattutto la trisomia 13 la dà, è caratterizzata anche da disturbi facciali, per cui ci sta sempre un severo ipotelorismo che può arrivare all'orbita singola, è caratterizzato dalla presenza di malformazioni cardiache, qui ti faccio vedere una discrepanza a carico dei ventricoli, un canale atriventricolare ed un grosso div, ma è chiaro che la cardiopatia è ben più grave e non sta qui a noi segnalarla, è caratterizzata dalla presenza frequente di un falocele che qui non c'è, è caratterizzata dalla frequente associazione con alterazioni dei reni, è caratterizzata dalla presenza di alterazioni degli arti in cui l'elemento caratteristico è data dalla polidattiria post-assiale, quindi dal lato del mignolo. Poi vedi invece che il cordone ha tre vasi, vedi la vescica e naturalmente noi non andremo nel dettaglio se non a dirvi che è una malformazione grave, se non a dirvi che dovete richiedere il cariotipo, se non a ricordarvi che c'è, soprattutto nel tipo lobbare, un rischio sindromico, quindi di ripetibilità, se non a quello di poter vedere di nuovo questa immagine in cui si osserva che non c'è l'iperplacentosi che a volte c'è e rivedere quell'aspetto che ti abbiamo detto essere tipo pancake che hai potuto osservare e vedere anche che ci può essere una schisi mediana del labbro, anzi frequentemente c'è una schisi mediana del labbro, come in questo caso, grazie dell'attenzione. Stanno scorrendo le ultime immagini dove si vede il severo ipotelorismo, che può essere anche da orbita singola perché non siamo in grado.